Ora queste cose delle droghe, di questo tipo di concentrazione, però è anche molto difficile. No, diciamo che faceva una certa impressione ieri, perché stiamo parlando del fatto di prorogare lo stato d'emergenza, di continuare a dover tenere le mascherine in alcuni posti, addirittura a Trieste si parla di tenerle di nuovo anche all'aperto. Contemporaneamente ci viene detto che il certificato verde, lausibilmente, verrà prorogato l'uso del certificato verde ancora fino a giugno e poi lì abbiamo visto che erano in 6.000... Ed è difficilissimo fermarli, perché questo va detto in maniera anche molto chiara, nonostante tutti gli accorgimenti, perché a volte si rischia persino di peggiorare le situazioni, perché poi non sempre c'è la lucidità da parte dei partecipanti al rave nel dare le risposte giuste, ecco, sembra che anche dall'intervista che avete fatto si possa evidenziare una certa mancanza di lucidità. Però io non sono d'accordo rispetto a quello che dice la Meloni, io mi sento molto più sicura adesso che noi abbiamo Luciana Lomergese agli interni che non quando ci fosse Salvini come ministro, Luciana Lomergese è capace di svolgere tutte le azioni e poi la pubblica sicurezza è una delega che ha la Lega, perché il sottosegretario che ha la delega alla pubblica sicurezza agli interni è Nicola Molteni. Quindi il lavoro è un lavoro di squadra. Cioè se proprio se la deve prendere con qualcuno tirasse dentro anche Molteni? Io penso proprio che non se la debba prendere con nessuno Salvini, perché io penso che Molteni stia facendo quello che è il lavoro giusto che si fa agli interni lavorando con serietà. Sul rave si espressa.